ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del puzzillo del sud chi vi parla è il vostro sempre più uccellino puzzillo e oggi vediamo il tutorial e la recensione di birdie prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno non dimenticate di attivare la campanella e se volete ottenere i vantaggi esclusivi premete sul tasto grazie o abbonatevi cliccando qui inoltre se siete interessati all'acquisto dei giochi da tavolo vi consiglio lo store dungeon dice dove troverete continuamente delle offerte delle promozioni e per i più pigri lascio direttamente qui il link birdie è un gioco da tavolo competitivo da 2 a 4 giocatori della durata indicativa di 30 minuti a partita edito dalla get home games che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito la copia per potervi fare questo video e detto ciò possiamo partire direttamente con il gameplay e quindi vai con la spiegazione quindi vediamo come si prepara una partita in 4 giocatori quello che vedete nel tavolo è effettivamente il setup già pronto per una partita con 4 partecipanti e adesso vi spiego molto velocemente i passaggi che ho effettuato prima cosa si prendono tutte le carte uccello queste qua le si mescolano coperte nell'unico mazzo che potete vedere dopodiché prendo tante carte pari il numero dei giocatori in questo caso 4 le metti in fondo e poi sopra ci metto la carta stop sopra la carta stop ci metto il resto del mazzo e poi una volta che il mazzo coperto è stato formato rivelo 4 carte poi ad ognuno dei partecipanti do due carte che vengono tenute nella propria mano io queste le sto lasciando scoperte però di norma dovrebbero essere tenute coperte agli avversari qua invece sono un po più lontane ma ci sono anche le carte degli altri e poi diamo una plancia il pennarello e mettiamo da parte i trofei degli uccellini e poi i riassunti fatto questo si può cominciare con la partita allora innanzitutto bisogna decidere casualmente il primo giocatore oppure come dice il manuale colui che cinguetta più rumorosamente e poi si gioca a turni si va in senso orario quindi si parte al primo giocatore e quindi sarà un turno un turno un turno un turno fino a quando il round non finisce in totale ci sono due round ma su questa cosa ci torneremo poi successivamente quando ha senso spiegarla allora il giocatore attivo durante il proprio turno può svolgere una di queste tre azioni la prima è quella di pescare una carta qui direttamente da quelle visibili e la aggiunge alla propria mano fate attenzione perché non è mai possibile pescare dalla cima del mazzo quindi solo quelle scoperte e facciamo che il giocatore vedendo queste carte decide di prendere questa a cosa servono le carte in mano le carte in mano servono per poi poterle aggiungere quando si fa la seconda azione oppure per sfruttare i bonus degli uccellini ovviamente anche su questo concetto spiegherò meglio successivamente una volta che la carta è stata recuperata si rimpingua lo spazio vuoto fatto questo tocca al prossimo giocatore in senso orario e vediamo la seconda azione ovvero pescare due carte e aggiungere al proprio mazzo personale allora nota quando si fa questa azione si possono anche aggiungere le carte che si hanno in mano queste qua si aggiungono sempre al mazzetto facciamo che il giocatore vuole prendere questa carta qui e poi vuole prendere anche questa e le carte che prende le può mettere qui nel mazzetto assieme alle carte che ha nella mano non è obbligatorio fare questa cosa cioè aggiungere le carte alla mano però le due carte prese da qui invece è obbligatorio occhio perché qui c'è l'aspetto più difficile del gioco praticamente lui può ordinare nell'ordine che vuole tutte le carte ok e poi le mette qui coperte fate attenzione perché una volta che le carte che sono state messe qua non si possono rivedere infatti il gioco punta molto alla memoria io scarsissimo perché non ricordo manco cosa ho fatto dieci secondi fa però dovete cercare di ricordarvi gli abbinamenti quindi ricordatevi da qui vanno prese due carte obbligatorie poi si possono aggiungere quante carte si desiderano dalla propria mano e si mettono tutte qui coperte una volta che è stato fatto ciò si rivelano nuovamente le carte e quindi il gioco prosegue la terza azione è quella finale l'ultima che ancora non abbiamo spiegato che è l'azione di passare occhio perché se un giocatore passa non può più svolgere azioni per il round ma andrà a ottenere un punteggio ora come sapete questo non è proprio un gameplay ma più un tutorial mista al gameplay e quindi torniamo direttamente a questo giocatore e facciamo che lui decide di prendere altre carte aggiungere direttamente qui alla zona del suo mazzetto insomma quindi il mazzetto personale e quindi alle carte che ha preso poi aggiunge queste qua questa invece se la vuole tenere ora se invece il giocatore decide di effettuare la terza azione è quella di passare succede una cosa bisogna iniziare a scrivere qua sulla plancia e bisogna segnare tanti punti pari ai giocatori che ancora non hanno passato per 2 quindi se questo giocatore è il primo e ci sono 3 giocatori che non hanno passato questo giocatore ottiene 6 punti perché il numero di giocatori che ancora non hanno passato per 2 3 per 2 è 6 questo giocatore ottiene sicuramente dei punti fra l'altro c'è un altro vantaggio però non può più agire per il resto della fase ora teoricamente la partita potrebbe andare avanti almeno questa parte, questo round potrebbe andare avanti fin quando il mazzo non arriva alla carta stop ora ovviamente facciamo un po' più veloce facciamo che si arriva alla carta stop la carta stop indica semplicemente che non si possono più pescare carte da qua e si possono prendere queste che sono rimaste se i giocatori non possono svolgere la prima azione quella di prendere carte e aggiungere la propria mano oppure di prenderne due al mazzetto devono per forza passare quindi lo stop va a fermare questo round obbligatoriamente perché prima o poi i giocatori devono passare altrimenti andrebbe avanti all'infinito ok dopo che tutti i giocatori hanno passato si procede al conteggio dei punti ora preparo un attimino tutto per il conteggio dei punti e quindi giusto qualche minuto bene eccoci qua e vediamo il calcolo del punteggio allora questo calcolo bisogna farlo in ordine di turno è importantissimo e a breve capirete perché innanzitutto il giocatore prende tutte le carte dal mazzetto e senza modificarne l'ordine comincia a formare una fila con tutte le carte adesso le metto un pochettino attaccate insomma visto che lo spazio non è tantissimo e quindi vi faccio vedere la linea che ha formato questo giocatore poi cosa servono le carte che è in mano praticamente ci sono dei punteggi anzi no dei punteggi delle abilità che riguardano gli uccellini ad esempio questo qua è il punteggio del gufo che può copiare in una casella vuota il punteggio più basso e round facciamo un piccolo cambio facciamo tipo che al posto di questo il giocatore aveva il picchio poteva utilizzare questa carta qui la carta in mano non viene aggiunta qui ma semplicemente viene scartata e viene utilizzato il suo effetto occhio perché gli effetti degli uccellini che avete in mano si possono utilizzare una volta in partita quindi se ho utilizzato l'effetto del picchio io è vero che ottengo questo effetto qua ma vado a barrare il picchio per indicare che per tutta la partita l'ho utilizzato questo mi dice cambia la posizione di una carta nella fila prima di definire i set ad esempio potrei fare lo so che non ha senso però potrei fare una cosa del genere poi capirete perché insomma non ha molto senso alcune carte si attivano prima di definire i set altre invece dopo che cos'è definire il set? definire il set è quando finalmente abbiamo tutta la fila completa in modo così da capire i punteggi adesso come si svolgono i punteggi? qua praticamente bisogna andare a vedere le carte che diciamo in modo adiacente hanno la stessa stagione o lo stesso uccellino perché la mossa di prima non ha molto senso? perché per quanto riguarda le stagioni io ho tagliato autunno-estate un set si forma se almeno due stagioni o due uccellini sono identici adiacenti quindi in questo caso avrei avuto un set di una stagione d'autunno e un set di una stagione d'estate invece in questo caso purtroppo non è possibile perché il set deve essere almeno di due carte quindi non posso definirlo un set invece per quanto riguarda l'uccellino qui ci sono quattro uccellini adiacenti c'è lo stesso uccellino e quindi cosa succede? per quanto riguarda le stagioni non sono riuscito a fare nulla mentre per quanto riguarda l'uccellino c'ho quattro carte adiacenti vicine cosa faccio? vado qui in uccellini e segno un quattro nota se avessi avuto più set di uccellini ne prendevo solo uno quello che vale di più ad esempio se qua ci fosse stato poi questo qua è un altro set da facciamo pure così tanto effettivamente è una prova in questo caso io facevo un set in questo modo ok io non vado a ricontare due volte il set di questi uccellini ma semplicemente conto una volta quello più grande qui c'è un pareggio quindi una sola volta due ok? quindi si conta il set più grande una sola volta quando otteniamo finalmente un nuovo set fra l'altro segniamo un flap il flap è un bonus per aver ottenuto un punteggio ok? perfetto quindi nella situazione che potete vedere qui praticamente il giocatore ha ottenuto solo quattro punti dagli uccellini perché le stagioni non c'è proprio niente autunno, estate non c'è il set da due mentre inverno e primavera non ci sono proprio le carte gli altri uccellini non ci sono e adesso accade un'altra cosa particolare praticamente il giocatore che attualmente ha il punteggio più alto con un determinato tipo di uccellino ottiene il trofeo che posiziona qui in uno degli spazi tanto indifferente che fornirà dei punti vittorie addizionali cosa succede? e qui è importante l'ordine di turno se ad esempio un altro giocatore ad esempio questo qua riesce a ottenere 5 punti con questa tipologia di uccellino allora prende il trofeo e lo tiene lui solo se c'è un valore più alto se c'è un pareggio lo tiene il giocatore precedente ecco perché è veramente molto importante l'ordine di turno che comunque il primo giocatore che fa il conteggio e prende dei trofei ha più probabilità di tenerlo insomma gli altri devono superarlo con il punteggio ok quindi una volta che sono stati calcolati i punti segnati i flap per i nuovi punteggi e presi gli eventi dei trofei adesso li restituisco il giocatore ha finito e tocca al prossimo giocatore però questo qui è il sistema con cui si effettua il punteggio una volta che tutti i giocatori hanno calcolato il punteggio si prendono tutte le carte che sono nella mano dei giocatori queste qua si scartano ok e bisogna formare un nuovo mazzo ok facciamo che insomma il mazzo è questo e nuovamente si fa la procedura del setup quindi si mescola si conta il numero di giocatori si mette la carta stop e qui si riforma il mazzo da 4 ok quando praticamente è finito un conteggio per tutti i giocatori ed è stato risistemato il centro del tavolo quindi sono state rimesse le carte mescolate e formato il mazzo date due carte a ogni giocatore l'unica cosa che rimane è praticamente sia il punteggio con gli eventi dei trofei e sia le file già formate questa è una regola che vale per 3-4 giocatori mentre per 2 c'è qualche differenza qual è la fregatura? perché il secondo round è più difficile? innanzitutto ci sono dei set già formati e quindi ovviamente ci sono meno carte ma fra l'altro i punteggi che abbiamo già ottenuto non li possiamo più modificare quindi se il giocatore continua a puntare su questa tipologia di uccellini il suo punteggio oramai è rimasto questo se altri giocatori riescono a fregargli il trofeo facendo più punti con quell'uccellino semplicemente glielo prendono perché lui non può più puntare a ottenere quel trofeo quindi occhio perché il primo round è quello un po' più permissivo però fate attenzione perché se voi comunque fate tutti i punteggi ma fate poco rischiate veramente poi di perdere al secondo round perché non potete fare punteggio comunque quei pochi che vi sono rimasti ci dovete puntare fortissimo il secondo round è un po' più difficile però procede sempre allo stesso modo il nuovo primo giocatore è l'ultimo ovviamente si rintraccia come vedete qui si può rintracciare perché questo è il primo vedete R1 nel round 1 aveva 6 punti quindi ha passato il primo questo il secondo questo il terzo quindi lui che è l'ultimo sono l'ultimo a passare comincia il nuovo round e qui ogni giocatore in ordine di turno sceglie un'azione da fare e poi si ricalcola una seconda volta il punteggio quando anche il secondo round e il secondo punteggio sono stati effettuati allora bisogna segnare tutti i punti che abbiamo ottenuto sia per le stagioni la somma delle stagioni degli uccellini insomma del valore per cui abbiamo passato quindi insomma si calcolano i punti in base a come abbiamo passato i flap e più gli eventi di trofei ogni trofeo vale più 3 punti a fine partita quindi in questo caso facciamo giusto un esempio allora qui non ci sono stagioni quindi nulla qua si ottengono 4 punti per gli uccellini qua ha passato facciamo 6 semplicemente nel primo round l'ultimo è stato diciamo il secondo round è stato l'ultimo quindi nessun punto qua siccome ha ottenuto un punteggio ha segnato un flap scusate mi ero effettivamente dimenticato che ci sono anche i più 3 da aggiungere dei trofei quindi ha fatto 10 14 e ottiene in totale 14 punti vittoria chi ottiene più punti vittoria vince ovviamente come vi ho sempre detto questo qui è più un tutorial semplicemente con il formato di un gameplay cioè dal punto di vista dall'alto e io vi spiego le regole base per poter capire le meccaniche in poco tempo probabilmente questo rimarrà il formato definitivo fin quando non riuscirò a trovare altre persone con cui girarli quindi fatemi sapere se vi piace questo sistema quindi la ripresa all'alto per vedere tutto quello che c'è qui sul tavolo e in più la ripresa frontale adesso andiamo direttamente con la parte delle impressioni e quindi buona continuazione arriviamo infine alle mie impressioni su Beardy occhio non fatevi ingannare dalle regole semplici e dalla durata ridotta poiché nell'arco dei 30 minuti dichiarati sicuramente vi esploderà il cervello il titolo è una fusione tra un set collection e un gioco di memoria dove man mano che la partita procede dobbiamo ricordarci tutti gli abbinamenti che abbiamo lasciato nel mazzetto a livello di meccaniche è davvero semplicissimo ci potete giocare con un neofita poiché durante il proprio turno bisogna svolgere una delle tre azioni la prima permette di rimpinguare la mano la seconda di creare il mazzo e aggiungere carte dalla mano mentre con la terza si passa e si esce fuori dal round ora qui c'è un aspetto molto interessante perché la partita dura un totale di due round e bisogna fare molta attenzione a quello che si combina nel primo perché purtroppo di ogni set potremo ottenere soltanto un punteggio a prescindere dal round ciò significa che se ho calcolato un punteggio basso nel primo round mi terrò quello anche per il secondo e quindi bisogna ragionare molto bene su cosa fare e su cosa specializzarsi anche la questione dell'iniziativa non dobbiamo sottovalutarla poiché il primo giocatore a passare è vero che ha meno possibilità di incrementare i set però è quello che ha più probabilità di tenersi trofei anche qui carino il fatto che il primo ad ottenere i punteggi più alti si prende questi trofei e nel conteggio finale sono dei punti aggiuntivi simpaticissimi i poteri degli uccellini che vanno a mitigare un po' la fortuna e tranquilli perché visti i pochi abbinamenti questa non si sente tantissimo mettiamoci anche un secondo round abbastanza ansiogeno dove bisogna correre ai ripari perché bisogna sistemare i punteggi che ci rimangono e quindi massimizzarli nel calcolo finale della partita sommeremo tutti i punti vittoria che abbiamo ottenuto e ovviamente chi ottiene più punti vince sul fronte della componentistica direi che è funzionale al tipo di prodotto con delle plance e dei pennarelli e un mazzo da cui pescare le carte e trovo molto simpatiche le pedine degli uccellini sì l'ambientazione è quella degli uccellini che è abbastanza abusata ultimamente però visto che la tipologia di gioco praticamente non ha ambientazione ci può pure stare alla fine l'aspetto più interessante è sicuramente quello delle meccaniche che in un arco di tempo molto ridotto fanno spremere le meningi perché il trucco è ricordarsi che cosa si è aggiunta al mazzo e come ottimizzarlo probabilmente l'unica cosa che non mi ha tanto entusiasmato è la scalabilità perché comunque funziona in tutte le configurazioni ma l'ho trovato un po' più debole in due giocatori occhio ci sono delle regole specifiche per poterlo giocare con due partecipanti ma la mia impressione è che il titolo renda al meglio con 3-4 giocatori ovviamente essendo un family abbastanza tranquillo io lo sconsiglio a chi cerca il cinghialotto il titolo complesso profondo e articolato poiché questo gioco si rivolge a tutt'altro target a me sinceramente non mi è per nulla dispiaciuto e anzi devo ammettere che è stata una piacevole sorpresa detto ciò siamo arrivati alla fine del video fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate di Beardy vi è piaciuto il modo in cui ho registrato il tutorial barra gameplay concordate con le mie impressioni fatemi sapere la vostra commentate qua sotto vi ricordo infine di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno non dimenticate di attivare la campanella e se volete ottenere i vantaggi esclusivi premete sul tasto grazie o abbonatevi cliccando qui vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao a tutti 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 ciao a tutti